orc vpp 2020 abbiamo scherzato abbiamo scherzato è uscita una comunicazione da parte del diciamo dell'uvae per cui sostanzialmente si dice che i numeri che noi tutti avevamo febbrilmente ha fatto girare in questi giorni per capire se non so che zero quanto pagare erano tutti sbagliati era tutto sballato perché non è che fossero sballati i nostri erano più sballati loro si sono resi conto di aver creato un piccolo terremoto terremoto anche noi un piccolo terremoto facendo un visuale terrorismo invece no poi adesso il terremoto è diventato molto più diciamo un po' ristretto diciamo esatto infatti è uno smottamento un piccolo smottamento la comunicazione come questo tipo di comunicazione non è stata particolarmente pubblicizzata anche perché uno non pubblicizza quando fa dei cappelloni gigazzeschi tende a non dirlo troppo esatto come va? esatto conosci questa situazione? sì mi sa che tende ad essere una cosa che si presenta in sostanza ti dicono entrando quando se vai nell'area te lo dicono però che la nuova versione del WPP 2020 ovviamente la vendono come al solito come innovazione una cosa molto più bella di prima in realtà quella prima era sbagliata e per cui ti ridanno anche i crediti che hai usato per fare le simulazioni fino a questo momento esatto perché sostanzialmente quelle simulazioni erano sbagliate e quindi la buona notizia che tutte le prove che avete fatto Non mi sono costate gli eriunti, credi? Sì, sì, sì. Sì, 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 gli eriunti, credi? Quindi potete performare delle nuove simulazioni da cui verrà fuori che in realtà, diciamo, quello che era lo svantaggio appunto per un ipotetico CO0 al 75%, quindi il fatto che questa vera entrasse nel calcolo, cosa che prima non faceva, il fatto che entrasse nel calcolo il classico CO0 che tutti hanno alla regata, diciamo, comporta un aggravio al gph ridotto più o meno della metà. Esatto, sì, sì, un po' meno della metà, nel senso che sempre nell'esempio che abbiamo fatto che era più o meno l'1%, quindi 5 secondi al miglio su un gph di 500, adesso diventa attorno ai 3 secondi o qualcosa al miglio sempre sui 500. però poi possono diventare invece molti meno anche, nel senso che a seconda di quale tipo di handicap si guarda, per esempio nel time on distance offshore si passa da 3 secondi e qui dal miglio di differenza che c'era prima a 1 secondo e 6 al miglio, per cui in quel caso proprio si dimezza. Quindi è accettabile, diciamo, come cosa in linea generale, se avete un CO0 al 75% non dovete disperare, da questo punto di vista, mi sembra di poter dire che per la percentuale di utilizzo che si fa di questa vela è abbastanza certo che con la penalizzazione del genere convenga portarla a bordo e convenga dichiararla portarla a bordo, questo è sicuramente. Esatto, esattamente, non ci sono tanti dubbi. La cosa, diciamo, curiosa è che prima avevamo fatto sicuramente un po' di casini nel calcolare questi coefficienti perché i coefficienti, ricordiamo, dovrebbero variare in maniera continua, diciamo, i coefficienti che calcolano le performance delle vele variano in maniera continua tra quelli del fiocco e quelli degli spinnaker per tutte le vele con la larghezza a metà dal 50% della LP in realtà al 85% della base con questa transizione al 75% della base che è dovuta al fatto che le due vele sono misurate in maniera diversa, però che comunque crea un po' di problemi. Però questa linea continua, diciamo, di coefficienti evidentemente l'ho fatta un po' male, un po' non continua, secondo me avevano sbagliato qualcosa. Per cui adesso quello che succede è che in sostanza più o meno tutte queste vele vengono viste in maniera molto simile e vengono pagate appunto non in maniera eccessiva. Per cui da una parte il caro vecchio quota al 75% rimane una vela valida, soprattutto se uno pensa a fare una stagione mista a IRC. Certo. Dall'altra parte se uno invece pensa di fare la stagione ORC bisogna considerare che è possibile magari pagare esattamente lo stesso per avere una vela più utile, se vogliamo, in tutto quel range che l'ORC non ha mai considerato e continua a non considerare che è tra 0 e 6 nodi. Certo, quindi questo è pur sempre una cosa da valutare. Diciamo, se tu fai una vela, un head sail set flying a questo punto, quindi una vela che ha il di sotto del 75% di larghezza a metà, non con le stecche, diciamo che vai a pagare, se fai il 74,9% a metà, insomma vai a pagare qualcosa di molto simile a quello del 75% del COZERO, quindi sicuramente per cui puoi fare questa vela qua, la puoi fare a 60% per dire. Esatto. E comunque ti viene un leggero potente che comunque può servire decisamente per uscire dalle bonaccette, proprio quando con l'aria entrante la mattina, queste cose qua, il mare a quadretti, quelle cose, potete performare sicuramente bene. Quindi la buona notizia è che anche la prossima settimana potete non lavorare e giocare con i certificati, perché sono cambiate un po' le regole. Esatto, giocare nuovamente. Armarsi di santa pazienza e del COZERO. Esatto. Va bene. Dai, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.